...la circolazione di suo, quindi attenta e evita comunque gli indumenti e cerca di portare comunque reggisseni e mutande a taglio laser e soprattutto evita di accavallare le gambe o metterti in posizioni un po' particolari che bloccano già la circolazione del suo. Buona giornata! E' arrivato il momento di agire e di non rimandare più. Quindi se vuoi eliminare il gonfiore addominale, se vuoi ritrovare il tuo corpo e se vuoi ridurre la buccia d'arancia io ti consiglio vivamente di provare il nostro trattamento detox dove in una sola seduta trovi già un corpo comunque modellato, più idratato, più nutrito e anche detossinato. Quindi non ti resta che chiamarmi e fissare. Appena terminato la riunione con il mio staff e abbiamo creato dei protocolli in esclusiva per questo mese, non per quest'anno, dove andremo a drenare, detossinare, nutrire, remineralizzare il tuo corpo. Ti resta altro di chiamarmi per fissare il primo trattamento detossinante e vedrai che bomba perché sono tutti trattamenti profumati, super super rilassanti, che sdraiata e croccolata ritrovi le tue forme ormai perdute.